La mala movida, ma in questo caso anche l'arroganza e la maleducazione dei protagonisti di questa storia, sono al centro di una maxirissa avvenuta a Biancavilla nel fine settimana che ha portato alla denuncia di 15 persone, 14 maggiorenni e un minorenne. Anche in questo caso un motivo banalissimo ha fatto scoppiare il caos. Una frase detta da un ragazzo è rivolta ad un altro giovane che ha frainteso le parole pensando a delle offese, da qui prima gli spintoni poi la zuffatina generale. Ricostruendo i fatti tutto è accaduto davanti una panineria biancavillese dove si trovavano due gruppi di giovani italiani e albanesi. Al centro dello scontro come detto una frase proferita da uno dei giovani italiani che pare per una incomprensione linguistica è stata fraintesa dal giovane albanese. Da qui prima gli sguardi minacciosi tra i due e poi le offese fino ad arrivare agli spintoni e alle vere e proprie botte che hanno coinvolto anche gli amici dei rispettivi gruppi. In una piazza incredula per quello che stava accadendo decine di persone hanno assistito alla maxirissa portata avanti a suon di calci, pugni, lancio di sgabelli e tutto quello che era a portata di mano dei due gruppi. L'intervento dei carabinieri del comando stazione di Biancavilla ha messo fine alla rissa con i militari dell'arma che hanno identificato i presenti. Uno dei giovani coinvolto nella rissa ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso per una trauma al ginocchio con prognosi di dieci giorni. L'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dei locali dove è avvenuta la rissa ha permesso ai carabinieri di ricostruire quello che era successo individuando anche i partecipanti. Alcuni di questi, tra l'altro, erano già stati denunciati per lo stesso reato e sottoposti al provvedimento del questore di divieto di accedere a luoghi pubblici nello specifico proprio alla stessa panineria, provvedimento che è stato chiaramente violato senza che nulla accadesse. Tutti i protagonisti della rissa gravata sono stati denunciati, compreso il ragazzo minorenne. La malamovida, dunque, torna al centro dell'attenzione non solo a Biancavilla. Da tempo si chiedono controlli preventivi o postazioni fisse di forza dell'ordine con una pattuglia presente nei fine settimana nelle piazze ritenute sensibili.